per una politica estensa caro fratello ho ricevuto una vostra del 16 aprile dalla quale intendo il dispiacere che avete avuto per la partenza della signora madre per roma ma spero che lei ritornerà presto io non credo che lei ci sia andata ad altro fine che per rivedere sua madre vecchia ed inferma ho gran gusto che voi ve la passiate bene io ancora dio l'ho dato sto bene e me la passo al meglio che posso nel stato che mi ritrovo dal marchese felice intendete diffusamente come passi il negozio del principe rinaldo e le impressioni che il re di francia mi ha fatto fare sopra questo particolare io credo che alla fine il re di francia lo farà cardinale e che a lui solo ne avremo l'obbligazione caro fratello adesso che la signora madre non è a modena spero che non avrete a male se qualche volta metterò mie lettere per le suore della visitazione nel vostro pieco e che permetterà loro di fare medesimo per farmi avere sue lettere povere suore io ve le raccomando di grazia siatele sempre cortese per amor mio ed aiutatele se avessero bisogno finisco caro fratello e resto tutta vostra londra di 7 maggio 1676 affezionatissima sorella maria grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti